Bolidi, meteoriti e onde sismiche sono gli ingredienti del viaggio fra terra e cielo che stiamo per intraprendere. Parleremo infatti di un settore di ricerca interessante ma poco conosciuto. Le stazioni sismiche che usiamo per registrare e localizzare i terremoti possono essere anche utili per registrare la traccia dei bolidi nel cielo e localizzare le eventuali meteoriti? Scopriamolo con Marco Olivieri dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Andiamo al sodo. Le stazioni sismiche possono rilevare bolidi e meteoriti? Sì, perché rilevano tutti i movimenti retempiantini del terreno. Come è nato il tuo interesse per questo tema? Il mio interesse nasce dalla mia curiosità e da due incroci durante la mia carriera. Uno è stato quello con il professore Iro Calamori che è uno dei più importanti sismologi contemporanei che pubblicò uno studio in cui con le stazioni sismiche della rete californiana registrò l'ingresso in atmosfera dello shuttle. E l'altro è la missione a Tunguska che il Dipartimento di Fisica organizzò ai tempi dell'università e partecipare a quel seminario in cui ci raccontarono la loro esperienza fu un grande stimolo per chi voleva studiare la fisica sperimentale. Partiamo dalle basi. Cosa misura e come funziona un sismografo? Un sismografo fondamentalmente è composto da una massa e da una molla e da un pennino. La massa tende a rimanere ferma quando il terreno si muove e il pennino scrive su un foglio di carta il suo movimento. Nella sezione moderna il sismografo è composto anche da un sistema di smorfamento e da un sistema di retrazione che tende a tenere ferma la massa. Questo permette di avere sismometri a larga banda che quindi registrano un'ampia gamma di frequenze e quello che noi misuriamo è la differenza di potenziale applicata al sistema per tenere ferma la massa. Questo è proporzionale alla velocità di movimento del terreno. Come è distribuita la rete sismica in Italia? La rete sismica nazionale al momento conta circa 500 stazioni sismiche distribuite su tutto il territorio italiano collegate in tempo reale con la sala di monitoraggio di Roma e la loro densità è diversa a seconda anche della distribuzione dei terremoti. Per esempio è molto più densa in Appennino centrale e molto più sparsa invece nelle zone a bassa sismicità come la Puglia e la Sardegna. Quali sono le principali difficoltà nel distinguere la traccia sismica di un bolide rispetto a quella di un terremoto? Il sismologo è allenato a riconoscere la forma d'onda quindi il sismogramma registrato in occasione di terremoti che avvengono in Italia perché succedono tantissimi tutti i giorni mentre i segnali generati dal passaggio dei meteoroidi sono molto rari anche meno di 10 all'anno e quindi molto più difficili da riconoscere. In più c'è il problema che i sistemi automatici di localizzazione riconoscono automaticamente i terremoti che avvengono nel sottosuolo mentre scartano come rumore segnali generati in atmosfera. In questo caso è fondamentale ricevere delle informazioni dall'esterno come per esempio le localizzazioni e le detezioni fatte da Prisma, la rete di monitoraggio dei meteoroidi. Una volta che il passaggio di un bolide è stato identificato interpretare la sua traccia sismica è più difficile rispetto a quella di un terremoto? Se sì, perché? Le due complessità principali sono il fatto che i terremoti possiamo considerarli simili nella loro forma, nel loro accadimento, mentre il passaggio dei bolidi abbiamo capito che ha tante diversità sia come direzione che come ingresso in atmosfera, che come velocità e la presenza di esplosioni o meno e l'impatto a terra. Questo rende molto diverse le forme d'onda che registriamo sui sismometri. L'altra complessità è il fatto che per i terremoti abbiamo un modello di velocità che è statico, non cambia nel tempo, il modello di velocità dell'interno della Terra, mentre le condizioni meteorologiche in atmosfera cambiano anche in modo sostanziale e questo cambia la velocità con cui si propagano le onde acustiche all'interno dell'atmosfera. Entriamo un po' più nel dettaglio. Con i sismografi si possono riconoscere le varie fasi del passaggio di un bolide in atmosfera? Sì, quando abbiamo a disposizione i dati di una rete estesa di sismografi possiamo riconoscere le varie fasi del passaggio di un meteoroide. Nell'ingresso in atmosfera abbiamo la formazione di un cono di Mach, quindi un'onda piana che si propaga e poi invece quando abbiamo delle esplosioni in atmosfera vediamo si genera un'onda sferica che entrambe quando impattano col terreno si propagano come onde di relay, quindi come onde di superficie. Nel caso invece dell'impatto a Terra abbiamo delle onde di volume che si propagano all'interno del terreno in modo sferico. Quindi cosa ci possono dire i dati sismici sui bolidi e quali sono i loro limiti? Quello che ci possono dire è l'informazione sul passaggio del bolide, sulle eventuali esplosioni in atmosfera e eventualmente rilevare l'impatto a Terra del meteorite. Quello che è complesso da fare è ricostruire la traiettoria soprattutto perché il modello di velocità dell'atmosfera, della propagazione delle onde in atmosfera è molto incerto e quindi la ricostruzione che facciamo della traiettoria ha delle grandi incertezze tali da renderla quasi inutilizzabile ai colleghi astrofisici. In collaborazione con la rete Prisma coordinata dall'INAF avete studiato il bolide del 5 marzo 2022 passato sopra il centro Italia. Un bolide che fu appena meno brillante della luna piena. Puoi raccontarci qualcosa? Sì, questo per noi è stato un caso di studio. Il passaggio di questo bolide era stato registrato da circa 60 stazioni sismiche tra l'Appennino e la pianura padana e questo ci ha permesso di capire, visto che la ricostruzione fatta da Prisma era molto accurata e ci dava il tempo di ingresso, di ritorno a buio e delle varie esplosioni successe durante il volo, ci ha permesso di capire che cosa avevano registrato i nostri sismografi e poi di provare a ricostruire la traiettoria cercando di compararla con la ricostruzione fatta dalla rete Prisma che era molto molto accurata. In generale, quale può essere il contributo della sismologia alle osservazioni di Prisma? Quello che abbiamo capito anche confrontandoci con i colleghi della rete Prisma è che il contributo della sismologia può essere fondamentale nel momento in cui la rete Prisma è cieca, cioè quando il cielo è nuvoloso oppure di giorno, in cui noi possiamo rilevare il passaggio dei bolidi e quindi, per esempio, aumentare la statistica e la conoscenza di quanti bolidi passano in cielo in un anno. La rete sismica potrebbe localizzare l'area di caduta di una meteorite? E in caso affermativo, con quale precisione? Sì, ma abbiamo calcolato che riusciremo a rilevare gli impatti a terra solo di meteoriti in una massa superiore a circa 30-35 kg. L'errore tipicamente associato alle localizzazioni fatte dalla rete sismica nelle zone in cui la rete sismica è densa è dell'ordine di qualche centinaio di metri e può raggiungere il chilometro, quindi un'ellisse di un chilometro di semiasse. Nelle ultime settimane si è parlato del forte boato avvertito all'isola d'Elba il 20 giugno scorso e che poi è stato associato ad un bolide. La rete sismica degli NGV ha rivelato qualcosa? Sì, la rete sismica l'ha registrato a diverse stazioni lungo la costa toscana e alcune stazioni che sono presenti sulle isole toscane. I risultati preliminari ci dicono che i dati sismici registrati sono compatibili con un evento in atmosfera a un'altezza rilevante, circa 30 km, però sono ancora risultati preliminari e la cui analisi deve essere completata.